Buon pomeriggio e benvenuti alla presentazione di Milano Wine Week 2021. Un benvenuto a voi che siete presenti in questa sala. È bello ritornare a degli eventi in presenza, finalmente, dopo tutto questo tempo, però con tutte le normative ovviamente del caso. Un benvenuto a tutte le persone che stanno seguendo questo evento sul nostro sito milanowineweek.com e sulle nostre pagine social. È un piacere, è un onore essere qui in questa sala così straordinaria. A Palazzo Reale, a presentare il quarto anno di una manifestazione. Anche questo è sintomo del percorso che siamo riusciti a costruire. Di questo voglio davvero ringraziare l'amministrazione comunale, il Comune di Milano e in particolare il nostro sindaco Beppe Sala. Un applauso. Benvenuto. Ringrazio una persona che nel 2018, quando è nata la Milano Wine Week, ha deciso di essere al fianco di questo progetto e di questa manifestazione, quando ancora era un'ipotesi, un'idea, il sottosegretario delle politiche agricole, alimentari e forestali, Gianmarco Centinaio. Benvenuto. Devo ringraziare molto per quest'oggi. C'è stato un lavoro di squadra davvero straordinario con tutto l'assessorato al turismo e soprattutto con l'assessore Roberta Guaineri. Benvenuta, grazie. E poi abbiamo il mondo della rappresentanza, perché la Milano Wine Week ormai è una manifestazione che rappresenta molto. Saluto e ringrazio per la sua presenza il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Benvenuto. Saluto collegato da Roma il Presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. Benvenuto. Saluto il Presidente di FIPE, Vice Presidente Vicario di Confomercio e Imprese per l'Italia, Lino Enrico Stoppani. Benvenuto, Presidente. E in una manifestazione che rappresenta così tanti consorzi, non potevamo chiudere con il Presidente di Federdoc, Riccardo Ricci Curbastro. Benvenuto. Allora, abbiamo davvero tante cose da dire di questa Milano Wine Week, è un progetto che evolve ogni anno, ma lo raccontiamo intanto con un video e poi presenteremo le principali novità di questa edizione. Regia. 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 Eccoci. Born to Change the Game. È uno degli obiettivi con cui la nostra manifestazione è nata, è nata nel 2018. Nel 2018 abbiamo deciso di costruire un percorso che cambiasse un po' la dialettica e il modo di realizzare gli eventi del vino e abbiamo costruito una manifestazione che già nel 2019 aveva una fortissima diffusione in città ma soprattutto che aveva avuto la capacità di essere anche un pensatoio nuovo del vino con grandi momenti di confronto tra cui il Wine Generation Forum, il primo forum generazionale dedicato al mondo del vino che è stato un appuntamento chiave dell'edizione 2019. Nel 2020 invece, in periodo appena post-pandemico, siamo stati l'unica manifestazione italiana, la seconda manifestazione internazionale, abbiamo realizzato un progetto straordinario nel mondo. Abbiamo iniziato a connettere altre città internazionali nelle quali si tengono degli eventi live da Milano, delle degustazioni che hanno coinvolto tutti gli operatori, tutto il mondo del trade e della stampa che non poteva viaggiare in quel momento. E nel 2021 rivoluzioniamo le esperienze. Adesso vi racconteremo come. Come avete potuto vedere da questo video, la Milano Wine Week coinvolge tutta la città, dal centro storico, da Palazzo Reale alle periferie, perché l'obiettivo è costruire delle esperienze straordinarie. Avete visto infatti che andiamo da Brera all'Ortica, dove andiamo a creare delle esperienze straordinarie, perché l'obiettivo è riuscire a connettere tutte le grandi eccellenze che abbiamo in città, con centinaia di location attivate. Centinaia di location attivate che sono ristoranti, che sono locali di somministrazione, che sono enoteche, che sono tantissimi nuovi luoghi, ma anche delle novità straordinarie come quelle di quest'anno, perché noi abbiamo nel percorso tantissimi negozi di design, showroom di moda, gallerie d'arte, librerie, quindi la Milano Wine Week sta arrivando ad essere un crossover, anche fra tante attività diverse. E qui vedete una diffusione in città che è veramente estremamente capillare. Rimangono dei punti fermi le nostre location principali di Milano Wine Week, Palazzo Bovara, la nostra casa principale, dove ospitiamo le masterclass, le premiazioni, ricordi qualcuna l'anno scorso, i momenti più istituzionali. Poi abbiamo un gioiello del Liberty come Palazzo Castiglioni, che invece è la sede dei nostri forum, dei nostri momenti di workshop, di condivisione e di network, che sono sempre più importanti. Usciamo però da Corso Venezia, arriviamo anche qui, un po' lontani dal centro, in una zona straordinaria, che è appunto Via Watt, ed il Megawatt diventa da quest'anno un altro dei poli importanti di Milano Wine Week, vi racconteremo dopo due grandi iniziative che si terranno. Manteniamo nel nostro percorso un grande progetto legato alla cucina, la cucina di Milano Wine Week in Piazza San Babine, un luogo dove parleremo dell'accostamento tra food e vino, un luogo dove parleremo appunto di abbinamento, che poi approfondiremo successivamente. Oggi ufficializziamo però intanto i primi nove wine district, voi sapete che la nostra manifestazione si caratterizza per l'accostamento di alcuni dei più importanti quartieri della città ad altrettanti consorzi di tutela. Ecco, i nostri wine district dell'edizione di quest'anno sono nove, e abbiamo l'abbinamento, diciamo, classico, storico, tra Brera e Franciacorta, abbiamo Sempione, che continua il percorso con il Consorzio dell'Asti, il Conegliano-Valdobbiadene è in Porta Nuova, quindi Garibaldi-Gaeolenti, il Lugana è in Porta Romana, l'oltre Popavese in Eustachi-Plinio, quindi nella zona di Corso Buenos Aires, e poi ci sono alcune novità. Tre erano già previste, una è stata comunicata oggi, perché la manifestazione ovviamente si sta costruendo ora per ora, e quindi abbiamo il Valpolicella in zona Sanzio-Marghera-Ravizza, l'Abruzzo in Porta Venezia, la Liguria con un bellissimo progetto che unirà vino e olio al quartiere Isola, e poi, la novità di oggi, l'arrivo del Chianti ad animare il quartiere dei Navigli, quindi sono nove i district della manifestazione. Però, per mettere insieme un palinsesto così complesso, così strutturato, abbiamo bisogno di fare un salto in avanti dal punto di vista della comunicazione, ed è per questo che abbiamo cercato di mettere insieme qualche esperienza che ci derivava dal mondo digitale, che abbiamo imparato così tanto, anzi, a iperutilizzare chiaramente nel periodo della pandemia, e l'abbiamo portata nel mondo fisico. E questo ci ha consentito di costruire un progetto che davvero rivoluzionerà l'esperienza di Milano Wine Week. Nasce infatti W. Che cos'è W? W è la app di Milano Wine Week. È una app che guiderà il pubblico in quella che noi chiamiamo la Milano Wine Experience, ovvero la possibilità di avere una guida interattiva a tutto il palinsesto di eventi della Milano Wine Week, quindi la geolocalizzazione di tutti i luoghi, dai locali alle location che faranno eventi, la possibilità di prenotare le esperienze, la possibilità di recensire le esperienze, la possibilità di creare degli itinerari in città. Quest'app si basa su un ecosistema digitale che è E015, che è quello che viene ovviamente utilizzato dalle principali app di sistema della città, dal sistema della mobilità fino ad arrivare a quello museale e di conseguenza le persone avranno la possibilità di prenotare le loro esperienze di Milano Wine Week, ma anche un'esperienza culturale come la visita a un museo e la bicicletta magari per raggiungere queste location. Questo significa integrare un progetto e l'offerta di una manifestazione all'interno di una città. Ma soprattutto, la grande novità, soprattutto per il mondo del vino, è che Milano sarà la prima città internazionale nella quale, grazie alla nostra app, le persone potranno scegliere dove andare a pranzo o a cena in funzione del vino. Stiamo facendo una scansione massiva di tutte le carte vino della città. Questo progetto poi lo porteremo come gruppo a livello nazionale entro a fine del 2022 e daremo quindi la possibilità alle persone di vivere un'esperienza decisamente diversa, perché il vino ormai è diventato, come tutti ben sapete, un touch point fondamentale anche per la scelta dell'esperienza ristorativa. E poi ci divertiamo, giochiamo con VU, ovvero anche l'esperienza in città diventa una gamification. Ormai si parla tanto di questo tema. Intrattenere e dare la possibilità alle persone evidentemente di vivere un'esperienza aumentata significa anche, ad esempio, che nel momento in cui le persone visiteranno uno dei quartieri di Milano Wine Week e andranno a vivere tre esperienze nei locali che partecipano alla manifestazione, avranno in premio una degustazione sul territorio. Quindi portiamo le persone a vivere l'esperienza completa. E questo è di fatto un modo per interagire e per rendere anche la permanenza evidentemente delle persone a Milano ancora più divertente, ancora più gradevole e per uscire dal concetto delle manifestazioni diciamo più tecniche soltanto per gli operatori che pure sono estremamente presenti nella nostra manifestazione. Chiudiamo questo primo blocco con una parte fondamentale a cui accennavo prima e che avete potuto vedere nel video. Milano diventa il centro del mondo del vino. La Milano Wine Week è diventata nel 2020 un grande evento internazionale. Lo è sempre di più perché abbiamo queste nostre degustazioni abbiamo impostato l'anno scorso questo format che prevede la realizzazione di degustazioni che vengono mandate in diretta da Milano. Quest'anno in 11 città mondiali nelle quali invitiamo ovviamente gli operatori, il trade, i giornalisti locali avendo inviato i vini sono sale di grandi alberghi location molto importanti ristoranti in giro per 11 città del mondo andiamo dagli Stati Uniti faremo New York, Chicago e Miami Toronto e Montreal in Canada andiamo a Londra è una novità di quest'anno poi abbiamo Mosca abbiamo Shanghai, Shenzhen e altre due novità sono Hong Kong e Tokyo. Sette mercati fondamentali decine di degustazioni collegate da Milano che in alcuni casi gestiranno in contemporanea più location quindi potremmo fare dei Milano New York, Miami, Toronto Montreal, Londra ad esempio dando la possibilità evidentemente alle nostre aziende di potersi promuovere anche in un periodo particolare la tecnologia e l'innovazione sono la caratteristica di questa manifestazione e anche un tratto evidentemente molto milanese e qui cedo la parola al nostro primo cittadino Beppe Sala benvenuto e grazie grazie Federico ha detto tutto quindi io posso anche rilassarmi ma come me e tutti gli altri poi siamo anche in tanti quindi prendo solo due minuti due minuti per innanzitutto ringraziare ringraziare dell'onore che ci fate di essere a Milano Milano vuole fare la sua parte ovviamente in questa ripresa guardate questo paese questa città ma questo paese ha tali qualità che mi pare che l'unico problema è che andiamo d'accordo e troviamo delle formule per poter lavorare assieme perché poi abbiamo veramente delle qualità straordinarie anche perché come la prendi la prendi ma il tema è ogni cosa che si fa può essere giustamente virata alla modernità e a quello che oggi i cittadini vogliono per esempio oggi mi segnalano che un quarto degli ettari vitati bio al mondo in Italia tutti parliamo di sostenibilità di ambiente ecco questo sistema l'ha già fatto per cui io credo che sia veramente l'occasione e sia importante trovare delle formule per cui con il contributo di tutti si dia una mano a questa città e a questo paese segnalo che la ripresa dopo le vacanze per Milano sarà estremamente importante ora nessuno di noi sa esattamente come sarà la situazione pandemica ma speriamo che questo procedere delle vaccinazioni porti a una maggiore tranquillità non lo sappiamo bene non sappiamo quanto potremo vivere senza mascherine eccetera eccetera però noi ci stiamo attivando per ritornare a una certa normalità e settembre ottobre sono importantissimi per Milano perché i grandi eventi i grandi eventi tematici stanno in quel periodo e cioè quello quest'anno sarà il momento del design col salone fuori il salone sarà il momento della moda sarà il momento del vino e anche del food per cui sarà il momento con cui noi tireremo sulla testa ma soprattutto lavoreremo affinché si riporti tanto lavoro che è quello di cui semplicemente poi le nostre cose le faremo ma l'importante è trovare lavoro riporteremo tanto lavoro e aiuteremo aiuteremo un settore che magari ha sofferto meno degli altri ma ha sofferto ha sofferto perché siamo tornati a livelli di produzione credo tipo del 2015 è esattamente quello che è successo nella nostra città siamo tornati a livelli di occupazione pre-ESPO per cui c'è da fare ma la volontà non ci manca e ripeto quando riusciamo a lavorare tutti insieme come vedete plasticamente qui poi le cose si ottengono grazie a tutti voi grazie e sì beh io penso che la dimostrazione del fare sistema della capacità di stare insieme soprattutto in questi momenti particolari sia fondamentale e l'Italia del vino ha bisogno l'abbiamo detto tante volte Gianmarco di Milano e di costruire un grande progetto che nelle differenze possa portare un grande valore sia in Italia che nel mondo cavalcando anche tanta innovazione beh sì innanzitutto grazie Federico grazie alla Milano Wine Week perché ci avete creduto ci avete creduto anche nel 2020 quando l'Italia era totalmente chiusa e voi in modo molto eroico e un po' folle sotto certi punti di vista avete portato avanti quello che è il messaggio che doveva essere portato avanti in quel momento l'Italia del vino non si ferma l'Italia non si ferma e quindi a livello nazionale e internazionale l'idea che in quel momento storico dell'anno scorso se vi ricordate adesso sembra sembra lontano un secolo ma se in quel momento storico tutti eravamo fermi invece c'era qualcuno che ci ha creduto e ha voluto portare anche nei locali milanesi perché io da buon residente in provincia di Pavia il mio oltrepo sono andato a vederlo nella zona dei Navigli mi ricordo e quindi il lavoro che era stato fatto è stato un grande lavoro che viene riconosciuto con quello che è il successo che state portando avanti in questi anni ma che state portando avanti in questo momento e quindi arriviamo il mondo del vino esce da un momento particolare da un momento importante e voglio evidenziare il mondo del vino di qualità esce da un momento particolare e anche molto difficile perché quando era chiuso tutto quando non si potevano fare eventi è stato il mondo del vino di qualità che l'ha pagata più di tutti non si potevano fare feste non si potevano fare ricevimenti non si poteva ricevere i turisti e quindi i produttori di vino di un certo livello i produttori di vino che fanno grande questo settore in giro per il mondo sono stati quelli che si sono portati diciamo il peso sulle spalle ripartire in questo momento ripartire da Milano che io penso che Milano sia la città più europea d'Italia sia la porta dell'Italia in Europa e quindi partire da Milano partire da Milano dalla Milano Fashion dalla Milano dell'innovazione dalla Milano che che vuole far vedere che c'è un paese che ha uno sguardo verso il mondo e verso l'Europa partire ripartire da Milano vuol dire ripartire come dicevo e partire da una città che ha voglia di far vedere che il vino è anche momento di ritrovo che il vino non è solamente per gli intenditori il vino non è solamente per i sommelier il vino è anche per tutti coloro che vivono momenti spensierati e vivono il momento dell'aperitivo se ti ricordi ne abbiamo parlato in più di un'occasione e quindi partire da Milano vuol dire tutto questo e vuol dire anche accoglienza vuol dire anche turismo vuol dire anche parlare a tutti coloro che vedono il nostro paese come un paese da vedere da mangiare e da bere era uno slogan che avevamo lanciato durante quei 14 mesi in cui avevo fatto il ministro e avevo portato insieme agroalimentare e turismo e penso che la Milano Wine Week sia l'esempio anche di quell'idea e quindi il prodotto agroalimentare del nostro paese insieme a tutto quello che c'è da vedere e quindi complimenti poi come ben sai io quest'anno avrò due quartieri da vedere quelli del Prosecco perché la mia futura moglie arriva da quella zona e quelle dell'Oltrepo perché io arrivo da lì quindi voglio dire ti toccherà vedere anche gli altri allora faremo di un ultimo tema importante che riguarda proprio Milano ne approfitto ancora della presenza del nostro sindaco e ovviamente di Roberta Guaineri perché perché noi ci siamo fatti un po' di domande su quello che può essere il ruolo di Milano in generale nel mondo del vino e noi pensiamo che Milano sia l'hub naturale per l'enoturismo è una delle ci sto perfetto esatto l'hub naturale per l'enoturismo perché perché se voi guardate questa cartina vi rendete conto che a due ore e mezza da Milano abbiamo alcune delle zone più straordinarie massima percorrenza diciamo di ore e mezza automobilistica alcune delle zone più straordinarie del vino italiano pensate alle Langhe pensate al mondo nostro della Franciacorta l'Oltrepo il mondo della Valpolicella il Lugana il Trento Doc ma parliamo anche di altri mondi pensiamo alla Food Valley di Parma che è a un'ora da Milano un patrimonio straordinario pensate cosa potremmo fare vedere ai turisti ecco noi abbiamo lanciato e lanceremo Roberta questi come sai questi nostri Wine Tour che durante la Milano Wine Week porteranno le persone in alcune di queste destination ma con l'obiettivo di rendere questa un'offerta permanente della nostra città facendo sì che le persone proprio perché i territori sono molto vicini possano rimanere a dormire a Milano ok e di conseguenza fare un po' il pendolino aggiungendo magari un giorno di permanenza nella nostra città e collegando questo giorno di permanenza ad un'esperienza sul territorio il vino e l'enogastronomia ci consentono questo credo sia un'opportunità importante assolutamente sì e grazie Federico grazie a tutti per questa iniziativa che si sposa esattamente con la Milano turistica che vogliamo nei prossimi anni una Milano inclusiva una Milano che è diffusa in tutta la città e quindi hai colto perfettamente il nostro spirito e ti ringrazio per questi eventi veramente diffusi una Milano che è al centro come è stato già rappresentato non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista digitale quindi un evento diffuso in tutta la città un evento che si propaga in tutta l'Italia e soprattutto in tutto il mondo questo periodo di chiusura ha dato a tutti noi la possibilità di ripensare al mondo tecnologico a come vogliamo i prossimi eventi e questa è la rappresentazione di come li vogliamo quindi un connubio tra tecnologia e quindi mondo virtuale e invece mondo fisico e contatto personale di cui abbiamo veramente bisogno come abbiamo già detto anche nel corso delle altre conferenze stampa a cui abbiamo partecipato io origine franciocortine e conosco benissimo il settore del vino e l'ho visto soprattutto evolvere negli anni e nei decenni il brand franciacorta ormai è diventato un vero brand e non è facile far diventare una zona un brand quindi so quanto chi si occupa di vino investe investe nel prodotto investe nella qualità e soprattutto investe nell'evoluzione tecnologica visitare le cantine della Franciacorta ma tutte le cantine italiane è un'esperienza proprio di vita e molto spesso le cantine sono dei centri anche culturali e quindi realizzate da grandi architetti con grande innovazione questo è importante perché è un traino per tanti settori del turismo che sono attenti a questi temi quindi il vino è sicuramente un settore di grande qualità e di grande evoluzione appunto tecnologica e culturale che Milano diventi il centro di tutto questo non può che farci piacere quindi grazie per aver recepito le nostre esigenze le nostre indicazioni grazie per aver organizzato questo evento che non è facile perché oggi lo presentiamo ma è stato pensato in mesi molto complicati per Milano e per l'Italia quindi è veramente coraggioso e di grande entusiasmo di grande visione aver programmato tutto questo quindi grazie allora ci colleghiamo ad un tema che è quello della cultura gastronomica perché ovviamente il vino e il food non possono stare distanti sono due mondi che dialogano che devono dialogare sempre di più sia nella promozione nazionale ma soprattutto in quella internazionale ricordandoci che il mondo compra prima di tutto lifestyle italiano e allora noi abbiamo creato questa area food della manifestazione che è coordinata da Francesca Barberini dove abbiamo deciso di costruire un percorso di promozione della cultura dell'abbinamento lo facciamo attraverso una serie di attività importanti abbiamo come vi dicevo la cucina in piazza San Babila dove alcuni dei più importanti chef italiani interpreteranno il vino quindi ormai stiamo facendo l'abbinamento ormai da anni che prevede un abbinamento diverso rispetto a quello che abbiamo fatto prima quindi in questo momento noi abbiniamo il cibo al vino e lo faremo con queste grandi firme della cucina italiana che ci raggiungeranno e che faranno appunto queste iniziative dedicate proprio alla formazione del pubblico consumatore che racconteranno proprio l'abbinamento e poi avremo dei laboratori dei laboratori che ci metteranno a contatto anche con altre grandi eccellenze dell'agroalimentare italiano e su questo sono felice di cedere la parola a Ettore Prandini a Presidente di Coldiretti che rappresenta tantissime realtà di entrambi i settori perché dobbiamo cercare di portare davvero questo messaggio di italianità e di agroalimentare che lavora insieme anche nel mondo grazie grazie Federico grazie per averci dato la possibilità anche quest'anno di essere uno dei partner che crede fortemente in un principio di valorizzazione territoriale e nella valorizzazione territoriale farlo a Milano può sembrare quasi scontato ma Milano al centro della Lombardia regione che spesso e volentieri viene conosciuta per altre sistemi di carattere produttivo poche volte la si ricollega a un comparto agroalimentare e soprattutto vitivinicolo quando Beppe Sala ricordava il primato che l'Italia ha nel mondo legato al biologico beh la prima doc per importanza in termini di superficie evitata dal biologico è proprio la Franciacorta quindi poter raccontare queste esperienze fa creare anche crea una condizione di valorizzare un insieme di territori di potenzialità di imprenditorialità che sempre di più si collegano al settore vitivinicolo e soprattutto alle eccellenze enogastronomiche che il nostro paese può offrire e contestualmente mi fa altrettanto piacere poter essere seduto con il ministro che all'epoca creò le condizioni perché ci fosse l'enoturismo in Italia perché se noi oggi parliamo di enoturismo è grazie comunque a Gianmarco Centinaio che ebbe l'intuizione di capire come un modello che poteva essere diciamo così replicato nel nostro paese proveniente da altre situazioni ad esempio in Francia ha creato un meccanismo di sviluppo di carattere culturale che noi vogliamo proprio rappresentare come col diretti nel Wine Week perché il Wine Week è rappresentare al meglio ciò che l'Italia può offrire soprattutto dopo l'uscita di scena da parte diciamo così di Londra come capitale europea Milano ha una grandissima potenzialità di essere la nuova capitale d'Europa e creando quelle condizioni per le quali tutto ciò che il meglio dell'Italia può offrire partendo dal cibo per arrivare al vino per arrivare alla moda per arrivare all'artigianato per arrivare al design ebbè questo è quello che il mondo ci invidia e noi dobbiamo essere bravi nel rappresentarlo al meglio e allora creare quel momento per il quale legando il vino legato al cibo legato a momenti di incontro B2B che andremo a sviluppare in tutto il mondo con degli eventi in concomitanza per far capire la potenzialità che il cibo italiano ha ma contestualmente che il vino rispetto a tutto un tema di biodiversità rispetto a tutto un tema di vitigni autoctoni nella valorizzazione però anche di vitigni internazionali dove andremo a spiegare che lo stesso vitigno coltivato in Italia per le potenzialità che il suolo ha rappresenta un'esperienza unica ecco io penso che tutto questo sia l'elemento per il quale noi ci dovremo impegnare ancora di più perché questa iniziativa questa manifestazione diventi il grande punto di riferimento per il settore vitivinicolo nel nostro paese e a livello europeo permettimi Federico un'ultima battuta che ritengo particolarmente interessante da uno spunto che tu ci hai dato il tema dell'app noi dobbiamo dare la possibilità ai cittadini ai consumatori di poter scegliere con consapevolezza quindi creare un meccanismo per il quale un cittadino possa scegliere di avere un'esperienza legata non solo al cibo che gli viene offerto ma sapendo sin dall'inizio il vino che potrà degustare abbinato a quei piatti io penso che sia proprio quell'esperienza che serve per farci fare quell'ulteriore salto qualitativo legato a un aspetto di formazione noi dobbiamo tornare a creare momenti legati al formare quelli che sono i cittadini i consumatori ma anche quelli che sono i nostri collaboratori giustamente noi parliamo di tecnologia noi parliamo di innovazione ma se noi non creeremo quelle condizioni per le quali dagli istituti tecnici creeremo dei momenti formativi pensiamo tutto al tema dell'alberghiero cosa potrebbe rappresentare perché poi alla fine è chi serve in sala che può rappresentare al meglio quello che è un racconto di un prodotto legato a un territorio ecco penso che abbiamo ancora uno spazio enorme sul quale possiamo lavorare per rappresentare al meglio le potenzialità che l'Italia può rappresentare nel mondo grazie vi dicevo prima che la Milano Wine Week si caratterizza per una serie di momenti molto importanti di formazione e networking sono diventati uno degli assi fondamentali della manifestazione sono una delle basi su cui vogliamo costruire la visione del vino del futuro tu hai partecipato Gianmarco a qualcuno di questi anche il presidente Prandini e anche ovviamente Riccardo Ricci Curbasto ci siamo confrontati su tanti temi molto importanti lo abbiamo fatto con quattro format diversi in realtà con tre format diversi quest'anno nasce il quarto il Wine Business Forum è il primo di questi ed è un momento nel quale noi parliamo di come affrontare i mercati internazionali vogliamo dare dei tools vogliamo dare delle strategie delle idee nuove per poterlo fare alle nostre aziende e lo facciamo con l'intervento di alcuni dei più importanti esperti in rappresentanza dei sette mercati nei quali noi siamo presenti con le nostre degustazioni internazionali quindi dalle USA alla Cina passando per il Canada e gli altri paesi il Wine Generation Forum fare a Milano un momento generazionale che parla di un mondo che è sempre più giovane la generazione dei quarantenni la generazione dei ventenni sono sempre più presenti in azienda nei management dei consorsi nelle associazioni di rappresentanza nel mondo della comunicazione e del marketing è la generazione del cambiamento io sono convinto sindaco di una cosa che Milano ha fatto qualcosa di molto importante per altri settori alla fine degli anni 70 inizio anni 80 ha preso dei settori che avevano un potenziale produttivo straordinario una qualità straordinaria la moda e il design e di fatto io cito sempre questa metafora del tunnel dell'autolavaggio è come se fossero entrati in questo tunnel dell'autolavaggio dove Milano ci ha messo sopra la comunicazione il marketing la finanza le professioni l'internazionalizzazione sono uscite con una valorizzazione straordinaria io e noi di Milano Wine Week siamo convinti che il vino che attualmente è un'industria che cuba all'incirca 12.5 miliardi di euro possa crescere in maniera significativa e pensiamo che il fattore Milano quello che può portare Milano al mondo del vino possa essere proprio questa capacità di aumentare il proprio valore aggiunto così come l'abbiamo fatto per gli altri settori ed è proprio per questo che le generazioni più giovani sono quelle su cui dobbiamo puntare delle persone che sono protagoniste del mondo del vino perché questa è una possibilità cosa ne pensa? sono lusingato della tua riflessione sono totalmente d'accordo la principale caratteristica di questa città è proprio quella di cambiare di evolvere di non accontentarsi senza è chiaro che noi Milano siamo anche un po' bausciano quindi c'è un po' questo sentimento però il vero punto è questo noi siamo sempre alla ricerca del più piuttosto che del meno poi con buon senso poi sapere dobbiamo sapere anche che il più deve essere il più per tanti ma è una nostra ricerca continua e chi vuole essere con noi chi vuole accompagnarci in questo percorso è chiaro che poi noi facciamo la nostra parte quindi penso che sia molto bello e credo che quella cartina che tu hai fatto vedere all'inizio di nuovo stabilisce la centralità di Milano e la vicinanza di Milano ai tanti luoghi fondamentali è una cosa che mi fa riflettere che mi fa riflettere quindi noi chiamiamo le generazioni più giovani e poi parliamo però di altri temi ecco le altre eccellenze di Milano andiamo a un format invece che abbiamo costruito con la Sdabocconi si chiama Shaping Wine è un forum sul retail del vino è cambiato tantissimo signori l'ultimo anno è stato sconvolgente siamo passati da un utilizzo estremo dell'online i canali della grande distribuzione che sono cambiati totalmente perché sono diventati di fatto un canale di unico approvvigionamento per molte persone e poi questo mondo fisico classico che sta rincorrendo questa evoluzione ma anche il digitale che cerca di vendere esperienze e quindi di diventare fisico è un tema interessantissimo che affronteremo con tutti i più importanti interlocutori del retail fisico e digitale a Shaping Wine in Università Bocconi è un grande momento che segna anche un po' l'evoluzione di questo settore e poi quest'anno ci sarà anche una nuova occasione che vi darà protagonisti parecchi personaggi importanti del mondo del vino da un punto di vista tecnico in particolare il mondo dei master of wine avremo questo forum che si chiama Wine Geek quindi un forum molto tecnico molto dedicato alle persone che hanno invece una capacità di grande approfondimento sul mondo del vino una technicality molto importante e questo perché la nostra è una manifestazione che prima ha dato la dimostrazione di abbracciare il territorio la gente il consumatore ma che non scorda la necessità che c'è in qualsiasi settore di avere degli eventi di grandissimo approfondimento che possano dare lo spazio evidentemente alle anime delle persone che dedicano la loro vita a questo settore e il loro studio a questo settore quindi è importante anche costruire un momento come questo e nei tanti momenti che noi ospiteremo ci sarà presente anche un altro dei nostri partner Confagricoltura è collegato da Roma il presidente Massimiliano Giansanti vediamo se il collegamento è pronto eccolo presidente benvenuto ci sente? Benvenuto a tutti voi grazie eccoci allora come hai visto stiamo evolvendo in maniera significativa e siamo molto felici e onorati di avervi con noi anche quest'anno e vogliamo magari già rilasciare qualche anticipazione su questo o comunque su questi importanti momenti di riflessione all'interno dei quali vogliamo dare delle nuove prospettive a questo grande settore sì grazie innanzitutto permettetemi di salutare ovviamente tutte le autorità presenti e tutti gli amici che siedono al tavolo certamente il settore del vino è un settore estremamente importante stiamo parlando di uno degli assi trainanti non solo dell'economia agricola ma direi dell'economia nazionale pensate sono oltre 300.000 le imprese che operano all'interno di questo settore gli ettari vitati stanno superando i 700.000 quindi sempre di più gli agricoltori italiani tendono ad investire in uno dei settori che più di altri tra l'altro sta tenendo anche in piedi l'exporto italiano la metà del vino prodotto in Italia viene esportato tra l'altro il 2020 è stato un anno drammatico un anno in cui ovviamente abbiamo accompagnato per quello che abbiamo potuto ovviamente tutto il settore dell'Oreca un settore che poi ovviamente l'amico Stoppani il nostro Stoppani ce lo potrà raccontare è un settore che ha sofferto e noi abbiamo sofferto insieme a loro ma nonostante questo è un settore che ha mostrato tutta la sua resilienza un settore che ha tenuto un settore che tra l'altro ha performato meglio rispetto ai nostri principali competitor quindi sia rispetto alla Francia che rispetto alla Spagna quindi direi che si riparte dal vino oggi più che mai dobbiamo tornare a bere il vino in maniera ovviamente in maniera responsabile Milano città da bere Milano ha questo forte slogan che riscopriamo oggi sempre di più una Milano che è la capitale dell'enogastronomia nazionale forte dei suoi ristoranti della capacità di attrarre turisti soprattutto turismo business io credo che oggi più che mai abbiamo la necessità di rafforzare questa iniziativa e questo evento ovviamente noi di Confagricoltura non potevamo mancare come non siamo mancati nelle passate edizioni mi trovo un po' in difficoltà rispetto ad esempio a quello che diceva l'amico Gianmarco Centinaio che dice io ne dovrò visitare due io li dovrò visitare tutti perché il presidente di Confagricoltura ovviamente ha produttori in tutti i distretti del vino che ovviamente è in tutte le denominazioni quindi per la felicità credo del sindaco Sala imparerò a conoscere meglio la città di Milano e ne sarò onorato e orgoglioso però ecco questo deve essere un po' l'orgoglio di tutti i cittadini italiani quello di sapere che il grande vino italiano continua ad andare avanti continua a investire nel territorio continua a investire nelle aree interne continua a investire soprattutto in sostenibilità perché molti parlano di sostenibilità ma sono stati soprattutto i grandi viticoltori italiani che prima di altro hanno avuto appunto la capacità di intuire dove sta andando andando il mondo e hanno investito in sostenibilità più di altri abbiamo ormai aziende a bassissimo impatto aziende che operano in molti casi in regime biologico io credo che il vino italiano ormai non abbia nulla da invidiare ai nostri cugini d'oltardo quindi viva il vino italiano viva la Milano Wine Week e come Confagricoltura caro Federico lasciamo un po' in suspense tutti coloro i quali impareranno a conoscere tante belle cose che faremo insieme appunto nella prima settimana di ottobre grazie presidente allora andiamo a raccontare un'altra cosa importante che succede quest'anno perché c'è una novità Milano è una città di business abbiamo esploso prima tutta la parte dedicata al consumatore ma quest'anno la Milano Wine Week è ancora più business questo grazie a un evento che abbiamo costruito e che è davvero qualcosa di profondamente milanese perché? perché noi abbiamo pensato a come funzionano le altre grandi manifestazioni del vino e abbiamo pensato che forse a volte le manifestazioni per operatori sono messe un po' in difficoltà dagli eccessivi flussi di visitatori che magari non consentono effettivamente agli operatori di poter chiudere una trattativa di poter aprire un dialogo di poter degustare abbiamo iniziato a pensare ma Milano cosa siamo bravi a fare a livello business e abbiamo pensato alla moda gli showroom multibrand di moda anche gli showroom monomarca funzionano tutti su appuntamento abbiamo quindi messo a punto un evento che ha le sembianze di fatto di un evento fioristico di un testing con 250 aziende che sarà proprio uno dei due grandi eventi che ospiteremo al megawatt di via watt ma la differenza è che funzionerà tutto su appuntamento e anche qui c'è un'innovazione molto forte un'app che permetterà non solo di fissare gli appuntamenti tra le aziende e i clienti organizzando in maniera molto seria il calendario in maniera da dare la possibilità veramente di vivere una esperienza e di chiudere delle trattative ma addirittura questa app avrà un motore di matching per cui quando gli operatori si registreranno alla piattaforma indicheranno alcune preferenze di ricerca e verranno messi direttamente in contatto con le aziende che rispondono a quei requisiti creare opportunità accogliere gli operatori a Milano in maniera assolutamente innovativa l'app ti darà la possibilità di fissarti anche il parcheggio a Famagosta e la navetta che ti verrà a prendere perché noi dobbiamo dimostrare il primato organizzativo di questa città che c'è in tutti i settori e quindi questo è un nuovo percorso che nasce perché la prima settimana di ottobre ha due caratteristiche in modo particolare una è generale è una delle settimane come dicevo più importanti commercialmente nel corso dell'anno e quindi convocare qui le aziende e gli operatori significa dare loro la possibilità della ripartenza del business la possibilità della ripartenza del business nel periodo giusto nel periodo in cui si costruiscono le carte vini per l'inverno nel periodo in cui si decidono gli acquisti per le festività e lo facciamo in un mese nel quale peraltro le persone vengono a Milano volentieri e i dati del turismo Roberta del 2019 ci dicono che ottobre è stato il mese più frequentato della città e di conseguenza questo è importante perché anche l'operatore che viene a Milano ha piacere di venire a Milano perché è una città che logisticamente organizzativamente contenutisticamente non è seconda a nessuno in Italia quindi Wine Business City sarà un'opportunità anche di ingresso per le aziende piccole e medie all'interno della nostra manifestazione ed è un progetto che appunto otterremo il 3 e il 4 ottobre al Megawatt ma lo otterremo a Milano perché Milano è la capitale della ristorazione perché Milano è il centro di migliaia di pubblici esercizi di luoghi che diventano prima di tutto luoghi di cultura luoghi di sicurezza uno dei partner fondativi della nostra Milano Wine Week è Fipe Confcommercio e ho il piacere di avere qui con me il nostro presidente Lino Enrico Stoppani presidente di Fipe vicepresidente Vicario di Confcommercio a lei la parola Presidente grazie Federico e malvolentieri i miei socio i complimenti che ti hanno già fatto insomma e in modo particolare condivido gli aggettivi usati dall'assessore Guaineri insomma dove ti ha definito un imprenditore coraggioso e ottimista che guarda con grande prospettiva per quel futuro della città e anche delle nostre attività sulla iniziativa sugli obiettivi e le modalità con cui questa iniziativa è vera svolta è già detto tutto poi i video sono espliciti compreso il ruolo e il coinvolgimento del mondo dei pubblici esercizi con la creazione di otto distretti monotematici su questo aspetto però approfitto di questa occasione per lasciare due riflessioni che sono un po' l'eredità della pandemia sanitaria che ha toccato approfondamente il settore dei pubblici esercizi probabilmente vado anche un po' fuori tema mi scuso ma tant'è mi tocca soprattutto visto anche l'ottorevolezza del tavolo con la quale viene presentata Milano Enrique e la prima riflessione riguarda l'importanza dei pubblici esercizi e della ristorazione per la filiera agroalimentare di questo paese e non solo per gli aspetti economici ma anche soprattutto per il ruolo che il pubblico esercizio e la ristorazione di questo paese hanno per la valorizzazione e la promozione delle eccellenze non gastronomiche di questo paese oltre che naturale sbocco commerciale per questi prodotti chiusi i pubblici esercizi si sono causati gravi problemi a tutta la filiera facendo mancare cioè uno dei mercati di sbocco commerciale più importanti alcuni dati sui consumi delle famiglie nel 2020 i pubblici esercizi hanno perso 31 miliardi di fatturato meno il 40% i consumi in casa in campo alimentare sono aumentati di 6 miliardi con un delta negativo di 25 miliardi pagato soprattutto dal settore dei pubblici esercizi se parliamo di vini i pubblici esercizi nel 2019 hanno fatto acquisti di vini di 7,2 miliardi di valore nel 2020 per 4,5 miliardi con un delta negativo di 2,7 miliardi di fatturato meno il 38% e se consideriamo poi che la grande distribuzione i negozi vicinati hanno acquistato vini da 2,5 a 2,7 miliardi cioè 200 milioni in più vedete insomma che il valore il peso del pubblico esercizio anche nel mondo enogastronomico in questo paese è fondamentale e in questa fase sul tema dell'alimentazione nel nostro paese sono uscite pesantemente due debolezze strutturali la prima è la mancanza di un ministero di riferimento delle politiche del cibo e del vino nel nostro paese abbiamo qui centinaio che queste cose me le ha già sentite dire ma le ripeto perché insomma manca in questo paese un ministero che sappia capace di coordinare quella che è la produzione quella che è la trasformazione quella che è la distribuzione quella che è la somministrazione con una visione e una regia coordinata e unica e solo per parlare di ristorazione insomma vediamo il nostro settore frazionato per competenze nelle ministeri con la conseguenza che sta facendo la fine di un cane con due padroni che rischia poi di morire di fame e la seconda debolezza è la mancanza o la debolezza di un miglior rapporto di filiera anche di natura associativa e qui evidentemente la FIPE si prende le sue colpe ma al tavolo Ettore Prandini collegato c'è anche Massimiliano Giansanti insomma sono due persone di grande prestigio di grande autorevolezza e che rappresentano parti fondamentali della nostra filiera e allora questa filiera avrebbe dovuto a mio avviso fare un fronte comune sui problemi anzi sulle disgrazie di questo settore e molto spesso invece FIPE lo dico ancora a Marco si è trovata da sola davanti i problemi alle espettive di un settore che produceva danni indiretti a tutta la filiera avete sentito i numeri insomma delle perdite di natura economica considerato settore non essenziale che si poteva chiudere quando tutti i settori sono essenziali in questo Paese se producono ricchezza se producono occupazione se producono servizi è relegato insomma con dei provvedimenti assolutamente pesanti dal punto di vista operativo e che mettono a dura prova quella che era la ripartenza io non ho l'ottimismo e spero di sbagliarmi di Gian Santi quando dice che questi sono settori di forte resilienza non lo so 22.000 imprese perse nel 2020 con il rischio di perdere altrettante finiti quelli che sono gli anestetici dei decreti emergenziali che ci riguardano io vedo molto pessimismo nel nostro settore perché è ripartito con piaghe spaventose tra queste piaghe spaventose cito e titolo solo due titoli il primo è il fardello del debito che è una sostanza tossica che se non intervengono provvedimenti di ammortamento dei piani di ammortamento più sostenibili rischiano di saltare altri imprenditori del pubblico esercizio della ristorazione l'altro è la dispersione di competenze Prandini nel suo intervento ha parlato delle competenze fondamentali per valorizzare questi comparti e oggi il problema è anche un problema di capitale umano sul quale insomma c'è bisogno di una maggiore politica attiva sui temi del lavoro tralasciando quelle che sono le politiche passive di sussidio che creano poi perversioni anche in termini di abbandono e che non certamente inducono all'occupabilità nel settore la seconda riflessione la rivolgo in modo particolare al sindaco Sala insomma che è il valore sociale del pubblico esercizio emerso da una constatazione anche amara chiudi i pubblici esercizi spegni le città in senso letterale riapri i pubblici esercizi riaccendi le nostre città con tutti poi i valori e i vantaggi in termini di socialità in termini di vivibilità in termini di sicurezza anche in termini di d'accordo delle nostre città con le seguenti poi tensioni sui temi della movida per la quale il presidente di categoria molto spesso è cicchettato anche sui giornali in modo anche abbastanza esplicito dove certamente c'è un problema però sulla quale faccio mio quello che è stato l'appello e non lo faccio per cattazio benevolenza nei confronti del sindaco che ha richiamato alla necessità di un po' di tolleranza sui temi su un settore che è uscito con le sofferenze a cui facevo riferimento tra l'altro nella presentazione che ha fatto Federico Gordini ha richiamato anche il valore di giovani ecco su questi giovani nessuno considera i problemi di una generazione intera costretta alle restrizioni e alle anomalie del lungo lockdown che ha impedito loro le frequentazioni che ha impedito loro molte attività che ha impedito loro anche la necessità di sviluppare un senso sociale una crescita individuale e con la ripartenza evidentemente hanno un arretrato da recuperare che bisogna avere anche la sensibilità di dover accompagnare considerando anche che abbiamo anche le discoteche chiuse altro settore importante per il settore del vino insomma che ha evidentemente sconta tuttora un pregiudizio di fondo che sta danneggiando e distruggendo il settore vitale anche per gli aspetti turistici dietro questi temi della convivenza tra territori e attività di pubblico esercizio sulla quale poi la manifestazione presentata oggi si deve sviluppare ci sono certamente grandissimi problemi anche gravi di ordine pubblico problemi anche di abusivismo commerciale problemi di miopia urbanistico commerciale problemi di presidio dei territori problemi anche gravi da parte di pubblici esercizi ma la convivialità e l'aggregazione sono un valore della nostra civiltà da provare a difendere in ogni modo perché è un modello del consumo italiano è il modello di stile di vita a cui ha fatto riferimento anche Federico nel suo intervento ma c'è dietro anche tanta economia tutte cose insomma che questa manifestazione vuole riprendere vuole rafforzare vuole sostenere e per la quale non posso che fare il mio augurio oltre che il ringraziamento per l'intraprendenza di Federico Gordini grazie grazie presidente grazie è ovvio che i temi dei pubblici esercizi presidente Stoppani e anche il presidente di EPA Milano e i pubblici esercizi milanesi sono dei temi fondamentali noi pensiamo ovviamente alla ripartenza a dare degli strumenti gratuiti ai pubblici esercizi per poter ripartire nella comunicazione è chiaro che servono però sicuramente i riconoscimenti dovuti ad un settore estremamente importante adesso Riccardo Ricci Curbastro ti sto facendo vedere adesso la allarghiamo due cartine che sono quelle dei district da un lato di Milano quindi nove consorzi guarda la vedi meglio dietro perché non mi riusciranno a allargare perdonatemi abbiamo i district di Milano e abbiamo le città internazionali nelle quali siamo presenti allora questi sono due mondi nei quali i consorzi sono i re di fatto perché la maggior parte delle nostre registrazioni internazionali sono fatte da grandi consorzi la maggior parte tutti i nostri quartieri quindi le internazioni più importanti che abbiamo a Milano sono realizzate da consorzi è una piattaforma che probabilmente sta cambiando anche il modo di comunicare del tuo mondo sta cambiando e sta cambiando enormemente ma quello che Milano Wine Week e Federico Gordini fa al mondo del vino piace molto perché in quattro anni è la quarta volta che ci troviamo a presentare la Milano Wine Week quindi ne abbiamo fatte solo tre ha continuato a cambiare pelle e lo sottolineavi tu il 2020 l'abbiamo fatta nonostante le mascherine avete fatto caso a quel filmato iniziale era tutta gente senza mascherine e l'abbiamo guardato tutti come se fosse una cosa normalissima in realtà la normalità è che siamo ancora qui a metà strada e l'essere a metà strada implica inevitabilmente di fare cose nuove Federico Gordini oggi ci ha provocato perché ci ha riunito nella sala delle vecchie cariatidi e la Milano Wine Week è tutto tranne che una vecchia cariatide l'ho appena dimostrato perché è capace è capace la Milano Wine Week di cambiare pelle e questa è una caratteristica anche del mondo del vino prima il sindaco Sala ricordava gli ettari di biologico io aggiungo Gianmarco Centinaio sottosegretario grazie la settimana scorsa è uscito finalmente il decreto che ci permetterà di lavorare sulla sostenibilità l'Italia è il primo paese a lavorare sulla sostenibilità del vino il primo paese al mondo e lo farà con la consueta attenzione perché non c'è solo il biologico per fortuna c'è anche per esempio tutti gli aspetti sociali di cui oggi soprattutto non possiamo non tenere ampia considerazione ecco questo continuo cambiare di Milano Wayne Week è lo stesso cambiare del mondo del vino cambia la moda cambia il design cambia il vino cambia il modo di promuoverlo qual è stata la più grossa difficoltà in quest'anno passato era quella di essere a Mosca di essere a Hong Kong perché non abbiamo potuto viaggiare c'erano i nostri vini eravamo collegati raccoltando le nostre storie facendo vedere i nostri territori confilmati mandando le bottiglie era l'unica cosa che poteva in qualche modo viaggiare erano le bottiglie e degustando in distanza cosa troveremo nel 2021 qui a Milano beh troveremo quel mix che ha fatto crescere così tanto il consenso dei consorzi verso Milano Wayne Week che è rapporto con il professionista ma rapporto anche con il consumatore quello che chiamiamo il wine lover ma che in realtà è il motore di tutto quello che noi facciamo e soprattutto questo legame che si sta sempre più creando tra la città passatemi il termine il contado nel senso che noi che veniamo dalla campagna poi alla città la guardiamo sempre con una certa diffidenza in realtà questa volta è la città che ha teso la mano al territorio anche questa iniziativa del del lab del turismo dell'enoturismo a mio avviso è un qualche cosa che porterà molto ai territori del vino perché il vino non è solo il vino il vino è la storia di chi lo ha fatto il vino è la storia del territorio il vino è l'arte di quel territorio un paese come il nostro ha da raccontare storie del vino per i prossimi mille anni allora con grande ritmo siamo arrivati fin qui adesso vi do intanto una notizia che siamo autorizzati a comunicare poi usciranno le comunicazioni nei prossimi giorni un altro grande momento di crescita di Milano Wine Week perché Slow Wine quest'anno celebrerà sia la presentazione sia la degustazione della sua guida con centinaia di aziende venerdì 8 ottobre e sabato 9 ottobre durante la Milano Wine Week avevamo detto ci piacerebbe avere le grandi guide ci piacerebbe avere tutti i più grandi interlocutori del mondo del vino un po' come fa la moda e il design stare insieme significa costruire un contenuto che può essere fruibile può essere utile soprattutto per le persone che ci ricominceranno a raggiungere anche da altri paesi e siamo davvero felici e onorati di questa collaborazione adesso velocemente andiamo sulla tecnologia ancora perché vi vogliamo raccontare ancora due cose sull'app e chiamo Massimiliano Molese la D di Softec che è la società con la quale anche in collaborazione con Cefri l'abbiamo realizzato questa app Massimiliano benvenuto grazie buonasera a tutti da Napoletano che ha deciso di vivere nel Chianti ha corso quattro volte la Marathon du Medoc ed è praticamente gioca a Franciacorta è inebriante essere qui a parlare di questa carmes Softec perché siamo qui è una società che si occupa di digitale 20 anni di esperienza spesso si sente parlare le persone dire vado sul digitale noi non ci fermiamo ad andare sul digitale non è un viaggio di sola andata è un viaggio di andata e di ritorno perché quando si va sul digitale si racconta una storia c'è del valore e si torna indietro con delle persone interessate e queste persone vengono a vivere un'esperienza quindi il digitale per noi è un mezzo abilitante per questo motivo abbiamo accettato la sfida di Federico e abbiamo realizzato l'app prima si sentiva parlare di soluzioni digitali quindi abbiamo realizzato l'app per vivere al meglio questa esperienza della Milano Wine Week è un'app che è stata realizzata nell'ottica di mettere al centro il visitatore e di far sì che tutte le informazioni possibili possano essere praticamente condivise conosciute e conoscibili in maniera tale da poter organizzare al meglio quella che sarà la visita poter comprendere tutta la parte dei contenuti poter conoscere praticamente che ogni visitatore potrà vivere ma soprattutto riconoscere quel territorio quei ristoranti quei locali che si metteranno in discussione in questi distretti dove sarà appunto possibile vivere un'esperienza abbiamo creato e utilizzato le migliori logiche della digitalizzazione per cui al di là del check in della conoscenza la parte più importante per noi è legata a quella dell'interazione per cui i visitatori avranno la possibilità non soltanto di recuperare informazioni e di creare quindi la loro Milano Wine Week quindi di personalizzarle e customizzarle in funzione della propria esperienza ma la parte più importante è il data la gamification cioè la possibilità di vivere un'esperienza esaltante che permetta di ingaggiarsi con il territorio e di poter riconoscere quindi fondamentalmente delle attività specifiche che verranno vissute durante quelle giornate la parte più importante quindi è quella magari di creare il proprio avatar io rispoverò un cavallo di battaglia che Oscar Wine con una delle sue più famose che è il bere che trionferà sempre sul male ci sarà la possibilità di conquistare dei badge di fare delle attività di avere dei riconoscimenti questo darà la possibilità anche a colori quali parteciperanno a questa settimana di poter sapere che cosa è stato di gradimento cosa può essere migliorato e migliorabile perché la cosa più importante è che il digitale è un mezzo che deve restituire consapevolezza non è un concorrente del canale fisico ma concorre a vivere un'esperienza in maniera più abilitante a questo punto ci sarà la possibilità di seguire tutte le missioni in una visualizzazione rapida e semplice dove i ragazzi della parte della UX e dell'UAN hanno lavorato molto bene tutto questo verrà mappato su una cartina che darà la possibilità di riconoscere fondamentalmente i punti di maggiore interesse e quindi di poter geolocalizzarsi ma a questo punto dove abbiamo voluto lavorare proprio nel passare un messaggio che il digitale deve essere qualcosa prima il sindaco Sala diceva abbiamo tanto valore quel valore va comunicato e va comunicato in maniera tale che sia facilmente riconoscibile non ci poteva essere persona più opportuna per dimostrare che il digitale è un mezzo abilitante se non far parlare il nostro Pepper quindi il nostro robot umanoide che inviterà come rappresentante del digitale a vivere un'esperienza fisica quindi non è il fisico che è sostituito dal digitale ma è il digitale che ingaggia per vivere un'esperienza fisica Pepper sarà a disposizione praticamente nel palazzo avrà la possibilità di ingaggiare con i turisti ci saranno praticamente degli giochi e delle attività che saranno vissute esclusivamente con Pepper la logica a questo punto è quella di stimolare quello che noi chiamiamo il settimo senso cioè il senso fisico digitale per far sì che ci sia un ingaggio concludo dicendo era lontano 98-99 quando con la valigia di cartone sono arrivato a Milano era la grande Milano l'Ape Time era un luogo comune era un rituale la bellezza di Milano è che va oltre i luoghi comuni quello che sembrava un semplice rituale una liturgia oggi è qualcosa di molto più complesso di qualcosa molto più importante e noi siamo qui perché anche a noi piace andare oltre i luoghi comuni quindi ringrazio Federico e tutti quanti voi grazie davvero grazie davvero a Softec allora non ci fermiamo con l'innovazione allora diciamocelo chiaramente sappiamo perfettamente di essere in un periodo ancora particolare per quanto riguarda il nostro mondo degli eventi e una manifestazione che evolve tecnologicamente non può che avere dei grandi partner tecnologici con cui affrontare tutto questo noi abbiamo incontrato una grande azienda che si chiama Signify è la branch di Philips che si occupa di illuminazione e di sanificazione chiamo intanto Daniel Tattini amministratore delegato di Signify Italia e siamo onoratissimi di aver iniziato un percorso con loro sul tema della sanificazione queste macchine che voi vedete ai lati queste macchine bianche sono delle macchine di sanificazione dell'aria noi saremo la prima manifestazione la prima grande manifestazione internazionale ad applicare queste macchine all'interno di tutte le nostre location di evento oltre al nostro protocollo una manifestazione che ha attraversato il 2020 e evidentemente ha un protocollo di sicurezza molto ben strutturato questo è uno strumento ulteriore molto importante per garantire davvero il massimo della sicurezza sia agli operatori sia al pubblico che sarà presente nella nostra location e pensiamo che queste macchine diventeranno davvero sempre più di utilizzo comune perché questo tema della sanificazione è molto importante è una battuta Daniel benvenuto intanto grazie grazie Federico buonasera a tutti sono contentissimo di essere qui oggi saluto il sindaco sala i relatori particolarmente vi ringrazio Federico per l'invito anche gli ospiti i giornalisti io vengo un po' più lontano da Napoli sono brasiliano allora mi spiace se l'italiano non è ancora perfetto per gli ultimi due anni da quando sono arrivato sono rimasto più a casa sfortunatamente che in giro il mio ruolo come signify nella Milano Wine League è un ruolo di sopporto oggi non abbiamo più che due minuti di parole per raccontarvi che se riusciamo a darvi un standard di protezione e sicurezza più alto all'evento ai cittadini agli operatori e anche ai turisti saremo già contentissimi il nostro ruolo è portare una tecnologia che è la tecnologia della luce UVC che abbiamo da oltre 35 anni con le innovazioni dei prodotti di soluzione soluzione che in pochi secondi riescono a neutralizzare il 99.9% dei virus compreso quello responsabile del covid-19 una situazione che è paragonabile a 20 cambi d'aria all'ora e una situazione che è una realtà già per tantissimi ristoranti ospedale scuole uffici una situazione che ci porta a credere che la Milano Wine Week sarà non solo un successo per l'evento però anche una garanzia per la ripartenza che abbiamo già iniziato però che sappiamo che dopo l'estate sarà fondamentale e spieghiamo davvero che sia una ripartenza definitiva ci siamo e ci saremo nel futuro anche per aiutare e vi auguro in bocca al lupo e grazie dell'opportunità grazie grazie a voi queste tecnologie sono davvero qualcosa che implementeremo nelle nostre vite siamo onorati di iniziare questa sperimentazione e di rendere la Milano Wine Week non solo la manifestazione più innovativa ma anche quella più sicura grazie alla collaborazione con voi nel frattempo stanno distribuendo come vedete dei calici che adesso arriveranno anche sul banco dei relatori non vi preoccupate per il brindisi finale ma nel frattempo chiudiamo con un'altra notizia molto importante ed è collegato con noi il direttore generale di RDS Massimiliano Montefusco quest'oggi presentiamo questa collaborazione RDS diventa main partner e official radio della Milano Wine Week e ci aiuterà a raccontare questa manifestazione Massimiliano benvenuto e grazie per la tua presenza siamo davvero felici e onorati di iniziare questo percorso insieme grazie Federico grazie al sindaco e a tutti i relatori noi abbiamo fortemente voluto essere insieme a voi in questa manifestazione perché il settore è importante abbiamo visto 12,5 miliardi dove l'Italia resta il terzo mercato più importante del mondo in termini di volumi consumati abbiamo visto l'indotto che crea tutto questo e eventi come questo possono dare un'accelerazione al restart e alla ripresa sinergica delle filiere produttive del paese ecco perché vogliamo amplificare tutto questo con la nostra piattaforma crossmediale sia in modalità geolocalizzata con dimensione suono software dove Francesca Barberini non solo sarà protagonista nei laboratori come abbiamo visto precedentemente ma sarà anche nel racconto costante della rubrica segreti in tavola e quindi faremo non solo dello storytelling ma dello story doing cioè come le filiere stanno producendo cosa stanno facendo e come stanno come abbiamo visto anche esprimendo un'eccellenza non solo nel biologico ma nella sostenibilità nel life cycle assessment tutto questo diventa fondamentale importante sia per la sicurezza e la consapevolezza del consumatore che oggi è molto più esperto è molto più consapevole e anche molto più informato e quindi vogliamo in qualche modo portare quel messaggio di entertainment sia a livello geolocalizzato così come nelle rubriche invece su RTS 100% grandi successi nelle rubriche lifestyle e nel made in Italy per la valorizzazione dei produttori e del made in Italy Molière diceva che grande la fortuna di colui che possiede una buona bottiglia un buon libro un buon amico e perché no una grande città come Milano e il 100% di grandi successi di RTS come Colonna Sonora grazie grazie è un piacere avervi allora adesso siamo arrivati ai ringraziamenti nel frattempo chiedo di iniziare la distribuzione massiva dei calici così chiudiamo con questo brindisi finale del nostro appuntamento i ringraziamenti ovviamente vanno in primis al mio team abbiamo una squadra di ragazzi veramente ragazzi e ragazze più ragazzi in realtà che ragazzi ma non perché abbiamo le quote rosa ma perché la maggior parte veramente quando tu ti metti ormai a cercare un professionista di alto livello spesso più spesso del solito è donna e sono onorato di avere un team composto di tante ragazze straordinarie e di tanti ragazzi straordinari che hanno lavorato su questo appuntamento e che stanno lavorando per costruire davvero una grande grandissima Milano Wine Week in particolare un ringraziamento al team che ha creato questo evento lavorando per giorni sotto pressione è stato veramente particolare come occasione ma siamo davvero felici che questo sia potuto avvenire e sia potuto avvenire così io ringrazio il comune di Milano che ci è vicino ed è una cosa molto importante per una manifestazione perché avere la propria amministrazione comunale vicina significa avere la possibilità di costruire veramente un percorso più forte di valorizzazione della città e di quello che avviene in città ringrazio ovviamente Gianmarco Centinaio perché so che quest'anno ci sarà un grande supporto finalmente anche da parte del Ministero alla manifestazione e questo per noi è di grande di grande conforto perché riteniamo che le manifestazioni a prescindere dalla loro natura che siano fieristiche o meno devono avere il supporto nel momento in cui portano avanti degli obiettivi noi lo facciamo in maniera decisamente diversa decisamente innovativa ma è fondamentale che proprio per l'obiettivo che abbiamo ci sia questo supporto e devo dire oggi sono entusiasta di avere avuto voi qui sono entusiasta di avere il grande mondo della rappresentanza col diretti con cui faremo un grandissimo progetto grazie a Ettore Prandini per essere stato con noi quest'oggi con Fagricoltura con cui abbiamo una serie di programmi importanti ovviamente il coinvolgimento dei locali e delle location milanesi sarà assolutamente massivo e di questo ringrazio ovviamente per il grande contributo il mondo di Fipe e di Confonmercio che sono un partner fondativo della nostra occasione ringrazio ovviamente tutti i consorzi e le aziende che stanno credendo in noi ogni giorno sempre di più noi lavoreremo fino all'ultimo perché a Milano vogliamo veramente dare spazio a tante realtà ovviamente sono anni in cui è anche difficile fare il nostro mestiere ma io penso che ogni volta che alzo il telefono e chiamo un'azienda e propongo a un'azienda di venire a Milano One Week non solo sto costruendo qualcosa di importante perché davvero il nostro progetto è un progetto che sta portando dei risultati e che lo farà anche sulle attività ai consumatori perché come si diceva prima il dato e il dato è un elemento fondamentale che noi quest'anno riusciremo a recuperare anche in città anche per le attività ai consumatori e questo è un elemento fondamentale chiaramente tutto questo ci porterà ad essere ancora più effettivi e quindi io sono felice sia perché siamo effettivi ma soprattutto perché ogni volta che costruiamo un evento diamo la possibilità di lavoro a una filiera a una filiera importante alla filiera degli eventi alla filiera degli allestitori alla filiera dei tecnici a tutto questo mondo di persone che non hanno lavorato per mesi che hanno vissuto delle difficoltà vere l'industria degli eventi è stata dimenticata non dobbiamo dimenticarla perché porta al mondo ad esempio dell'hotellerie il 40% del fatturato annuo questo per darvi dei numeri e pensate sindaco quanto è importante per la nostra città che sugli eventi evidentemente ha costruito un successo internazionale per cui è importante cercare di ricordare che la ripartenza è la ripartenza di tante persone oggi rivedere i miei allestitori al lavoro rivedere i miei tecnici al lavoro rivedere tutte le persone che fanno con me la Milano Wine Week operative è davvero stata una grandissima soddisfazione e quindi noi andiamo avanti andiamo avanti perché l'obiettivo è quello di rendere questa città un luogo che cambi le sorti e che faccia evolvere alla grande il settore del vino e l'obiettivo è quello di essere assolutamente game changing perché vogliamo cercare con delle regole nuove di costruire dei progetti assolutamente innovativi e io vi ringrazio ancora per la presenza e vi dico che secondo me è molto importante che tutti noi siamo qui dal 2 al 10 ottobre perché come dice un nostro slogan che abbiamo lanciato Milano is calling ed è il momento adesso di brindare tutti insieme alla Milano Wine Week e di ringraziarvi alla vostra noi chiudiamo così ciao